Ma perché lo Smurf Cat è un meme? Me l'avete chiesto tutti quanti, quindi ora il minimo che potete fare è iscrivervi al canale. Questo meme terribile, chiamato anche Blue Mushroom Cat o We Live, We Love, We Lie, era originariamente un meme in lingua russa che vede una creatura blu simile a un elfo con la faccia da gatto accompagnato dalla canzone The Specter di Alan Walker e da una parola in lingua russa che sostanzialmente non significa niente, è spopolato su TikTok proprio nell'ultimo periodo. Molti non sanno però che l'immagine originale è stata creata dall'artista Nate Hallinan nel 2014, ma è stato grazie all'utente Gojam One il 27 agosto 2023 che ha pubblicato su TikTok il primo video che poi avrebbe generato lo tsunami che vediamo ora. Al momento questo meme viene associato anche ad una versione photoshoppata di un elefante fragola e altri animali generati con l'intelligenza artificiale che sinceramente mi fanno pensare...